calamari gratinati alla puttanesca oltre a tutta una serie di ingredienti a fine romone oltre a pane grattugiato ci sono i miei taralli e filippelle che è a fine romone un sogno e pipa guardate che ora me lo vado a assaggiare davanti a voi si scioglie in bocca mamma mia calamari e taralla pochi minuti e non sporcate pentola facetelo a pezzo a me e facetemi sapere se è o non è a fine romone partiamo subito veloce veloce i calamari belli puliti se non li volete puliti voi li fate pulire dal vostro per scivendolo di fiducia voglio le ali io me le separo sempre perché poi dopo me le vado a tagliuzziare tanto bella magari in quattro e i calamari ci andiamo a tagliare a tondini di questa grandezza qua vanno bene così la testa va bene anche in quattro dai facciamole in quattro adesso tutti i calamari li raccogliete tanto bello in una bella bacinella capiente allora voglio insieme ai calamari incominciamo adesso a mettere un po di sapori proprio di quelli la belli voglio a me l'aglio ma fa un pazzì quindi ci mettiamo un po di aglio tritato un bel poco ma se lo volete mettere se non lo volete mettere lasciate stare di peperoncino all'interno un po di pomodorini che fai non ce li metti belli tagliate in mità in pigliatele di tutti i colori giallo rosso verde nero come volitori capperi dissalati all'interno olive taggiasche snocciolate tutto all'interno sale quanto basta olio extravecine d'oliva qua abbondato voglio un po e mamma mia com'è bella buccia grattugiata di un bel limone vai poi un bel poco di prezzemolo tritato fresco bello bello vaglio numerici di niente ma io sono innamorato di queste alici di cetà le tagliamo a pezzettini piccoli 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 minuscoli e ce ne andiamo a mettere all'interno e ora facciamo la prima mischiata mischiamo proprio tutto per bene maronna mia caduro ora vaglio che avete mischiato tutto tutto per bene ci andiamo a mettere altri due ingredienti uno di questo è speciale allora il primo ingrediente è il pane grattugiato e un secondo vaglio non solo pane grattugiato o taralla nzogna e pepa e daniele filippello o pigliato o sfrandomato in dei mani anche se ci sono le mandorle all'interno scamazzatele pure che mandorle fatele bello fine 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 e buttate tutto dentro mamma mia che odore e ora mischiate tutto un'altra volta alla perfezione una volta che avete pure mischiato tutto voglio prendete una placca da forno ricoperta di carta da forno e andate a mettere tutto sopra tutto all'interno mettetelo bello sparso sparso sparse mi raccomando ok non ammassato uno sopra l'altra adesso ci mettiamo giusto un altro filino d'olio sopra tanto bello e adesso siamo pronti andare nel forno forno preriscaldato 200 gradi ventilato vaglio all'incirca 18 20 minuti voi regalatevi sempre in base alla vostra alla forza del vostro forno se non lo fate ventilate lo volete fare a modalità statica vaglio lo fate fare a 220 gradi ma sempre 18 20 minuti non di più mo andiamo nel forno e popolimmo come esce mo aiuta a me sono passati giusti 18 giusto 18 minuti mo alla sicura domanda ma luigi troppo minuti calamari cosa quando si va nel forno con una temperatura di 200 gradi e con la gratinatura da fare per i calamari è ottimale 18 20 minuti massimo quando le andate a friggere la cosa è differente vaglio questi calamari sono fantastici poca panatura fatta pure co taralla sogni e pepe alla napoletana e chiamma ma che stiamo parlando ma voglio tanto bene pigliamo guardate come bello croccante amo pigliamo meglio a bottiglie di vino che c'è sta che con questa c'è consulamma a fino a lungo calamari alla puttanesca gratinati sono serviti per tutti voi a fino a lungo